Quando frequentavo OneTaste, la maggior parte delle persone definivano l'orgasmo come l'apice dell'esperienza sessuale. Loro sostenevano che, quando partecipi a una sessione di MO, qualcosa si smuove. E non stiamo parlando solo del climax, poiché il climax è solo una parte degli otto stadi dell'orgasmo. In pratica il climax è una sorta di chi, l'energia recondita dell'universo che si insinua nel tuo corpo. Maggiore è l'armonia con questa energia, maggiore è l'empatia con la natura. Molte persone non erano coscienti della metamorfosi del concetto di orgasmo. Poi un giorno capì che il mio concetto di Dio era simile al concetto di orgasmo, e l'orgasmo era Nicole. L'ho guardato e l'ho guardato e ho detto, ti stai iniziando una religione, non? E lei dice, sì, voglio iniziare una religione, ma la cosa è che non puoi vendere Dio, perché puoi vendere Dio su Amazon. Lo che sto vendendo è sezione, perché non puoi vendere e non puoi vendere Dio, perché non puoi vendere Dio.